34 anni dalla sua morte, questa sera alla Santa Messa, ma sono anche 30 anni dall'iter della causa di beatificazione, quella che poi ogni anno ripercorriamo proprio perché è ferma, è ferma al palo, non ci sono riscontri da parte di nessuno. Qui abbiamo Giuseppe Di Lucia che fa parte dell'associazione Amici di Padre Giacomo, ma questa sera rappresenta anche un'altra associazione che è l'Associazione Carabinieri e poi vi spiegheremo perché la presenza dell'Associazione Carabinieri. Siamo qui, un altro anno è trascorso, 34 anni dalla morte di Padre Giacomo, ma non gli è resa giustizia da parte della Chiesa per quello che ha fatto nella città di Agropoli e non solo. Purtroppo è la verità, sono 34 anni che Padre Giacomo si è andato, con la promessa che ci fece Monsignor Giuseppe Casale che le spoglie di Padre Giacomo dovevano venire in questa Chiesa. Ancora oggi, dopo 34 anni, litere e fermo, io credo per la burocrazia ecclesiastica, non perché ci sono delle interferenze da parte nostra, ma qualcuno ha messo il veto. Noi sappiamo chi è, però purtroppo per il momento non possiamo parlare. Al momento giusto ci daremo i nomi di queste persone che hanno fatto il possibile per rintracciare la verificazione di Padre Giacomo. Ricordiamo anche che Padre Giacomo Senvi ha tanto voluto la costruzione di questa Chiesa, proprio qui in località San Marco. Davvero è stata una struttura tanto desiderata e poi realizzata. Questa sera, come dicevo in apertura, la presenza dell'Associazione Carabinieri di Agropoli con anche il Presidente che ci ha raggiunti. E allora spieghiamo ai telespettatori di Cilento Channel per chi? La vostra presenza che tra l'altro poi c'è stata anche negli altri anni addietro. Beh, la nostra presenza è costante perché noi siamo molto legati a Padre Giacomo. Io non l'ho conosciuto, prima di tutto, non l'ho conosciuto, però amo questa figura, amo questa persona. Più di me ne può parlare il Presidente dell'Associazione Antonio Chiarelli, il sottotenente Antonio Chiarelli che è vissuto e nato con Padre Giacomo. E allora Presidente, visto che lei lo ha vissuto di persona, ci piace ricordare ogni anno la figura di Padre Giacomo attraverso le persone. Lo facciamo rivivere in questo modo? Quest'anno, essendo nella mia qualità di Presidente, ho voluto la presenza, ho richiesto la presenza dei soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presente a una data che vorrei non ricordare, però è successo, Padre Giacomo ci ha lasciati. Era un sant'uomo, come oramai è stato detto in tutti i modi. Che posso dire? Ci manca, perché quello che ha fatto per Agropoli, per me, per quelli che l'hanno conosciuto. Padre Giacomo, come tutti sanno, era un ciclone. Investì me, mio padre, con la sua semplicità, col suo modo di voler bene, di amare, di dare tutto a se stesso. Ci ha colpiti, ha colpito me, ha colpito quelli che c'eravamo intorno a lui e ci sono tante cose, ma tante cose vissute nella vita quotidiana. Non sembravano cose immense come poi si è scoperto col tempo, però Padre Giacomo faceva i miracoli. Padre Giacomo era una persona che sapeva capire le persone, le assecondava e le aiutava. Il 1987 è stato un anno per me bellissimo e bruttissimo nello stesso tempo. Bellissimo perché ho avuto la nascita della mia prima figlia e bruttissimo perché poi, pochi mesi dopo, è venuto a mancare questa figura che era importantissima. Un messaggio che vogliamo lasciare a tutti coloro che guarderanno questo servizio affinché insomma Padre Giacomo Selvi possa realmente riposare in pace nella casa che lui ha sempre desiderato. Questo è un desiderio nostro, umano, di volerlo qui perché qui lui ha dato tutto se stesso, ha fatto immensi sacrifici, lui diceva sempre con le chiacchiere dei ricchi e con i sacrifici dei poveri. Abbiamo questa chiesa che ce lo ricorda ogni volta che passiamo davanti alla sessa, ogni volta che veniamo a messa. Il nostro desiderio sarebbe quello di averlo qui. Certo capiamo anche i genitori che magari vorrebbero averlo vicino per poterlo pregare ogni giorno, di poterlo andare a trovare al cimitero. Però secondo me il suo sudore, i suoi sacrifici, la sua vita l'ha dedicata a questo posto. Questo posto che non sempre l'ha saputo apprezzare, ha saputo volergli bene e capirlo. Però io come fedele, come amico, come persona, come ho conosciuto Padre Giacomo, sono tra quelli che lo vorrebbero qui.